Musica Buonasera, buonasera da Onda Rigi, in primo piano l'avete sentito nell'anteprima, l'omicidio stradale di Alessio Esposito, il conducente della vettura 83N rischia il processo, arriva la perizia cinematica ordinata dalla procura, sentiamo tutto nel nostro servizio. Il conducente dell'auto nella manovra di svolta a sinistra non ha ceduto la dovuta precedenza al motociclo sopraggiungente, nonostante fosse certamente visibile, è giunto a queste conclusioni l'ingegnere Marco Collagrossi che ha svolto la perizia cinematica per conto della procura della Repubblica di Sulmona, sul terribile schianto mortale dello scorso 19 aprile sulla provinciale 11 Raiano, che costò la vita al 26N di Pratola Peligni Alessio Esposito. Il professionista, a seguito dell'apertura di un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale, a carico di un 83N della cittadina Peligni, conducente della vettura Golf che ora rischia il processo, ha svolto un'accurata ricognizione sullo stato dei luoghi dove sono stati effettuate riscontri planimetrici, fotografie aeree con l'utilizzo di un drone, ispezionando pure il casco del motociclista, morto nello schianto. Sono state inoltre esaminate la posizione, lo stato dei mezzi coinvolti, le condizioni del manto stradale, stando alle risultanze della perizia, fermo restando il superamento dei limiti di velocità della moto, non adeguato al tratto di strada, 123 km orari secondo il perito della procura, emerso che l'automobilista indagato ha svolto una manovra di missione non perfettamente effettuata, in particolare non conforme a quanto disposto la codice della strada, per aver creato il pericolo che poi ha portato a sinistro, per aver effettuato la manovra dal centro dell'intersezione anticipandola leggermente, come dimostra la posizione statica finale del veicolo. Inoltre è stato ricostruito che la manovra di missione dell'autovettura effettuata in continuo è iniziata a meno di un secondo dall'auto e quindi non ha lasciato alcuna possibilità a disposito di evitare l'impatto. A riguardo sarà depositata anche una perizia di parte. Si attendono pure le risultanze dell'esame otoptico svolto dall'anatomopatologo, il dopo di Doro, che aveva già accertato all'estito di una prima analisi un doppio trauma fatale per Alessio, il calciatore parrucchiere di Pratola, la cui morte ha messo in ginocchio l'intera vallata, un volo di 42 metri che non gli ha lasciato scampo. Entrambe le perizie finiranno nelle mani del PM per le determinazioni del caso, ovvero per la richiesta di archiviazione al GIP o la più probabile richiesta dell'invio a giudizio al GUP. Dal canto suo l'anziano si era difeso, spiegando di non aver avuto la possibilità di calcolare gli spazi per essersi visto piombare la moto sull'arteria stradale. Sul tavolo della procura ci sarebbe anche la testimonianza a rese carabinieri dell'automobilista che seguiva la Golf, il quale avrebbe riferito di aver avvertito un forte rumore, di essersi messo la testa tra le gambe per paura di essere colpito o comunque di rimanere coinvolto nel tragico sinistro. L'emergenza abitativa ha sfratto agli abusivi delle case parcheggio. Arrivano i primi ricorsi da parte degli inquilini. Sentiamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio. Via i primi ricorsi per gli abusivi delle case parcheggio. Nei giorni scorsi uno degli occupanti è proceduto a impugnare la determina dirigenziale che li aveva intimato e rilasciò dell'immobile per la scadenza del contratto. Con il ricorso, depositato presso il tribunale di Sulmona, entra in vivo la battaglia legale per il comune chiamato a fare i conti con la resistenza degli inquilini degli alloggi. È probabile, infatti, che Ricorrente non sia l'unico a chiamare in causa i giudici di Piazza Capograssi. Sostanzialmente, con il ricorso notificato a Palazzo, l'inquilino sostiene di avere diritto all'assegnazione definitiva dell'alloggio perché l'ente non l'avrebbe mai richiesto indietro. Inoltre, sempre secondo l'occupante, il comune non avrebbe mai risposto alla sua istanza di sanatoria, circostanza smentila da Palazzo, poiché l'ente ha riscontrato negativamente, motivando anche il rigetto della sanatoria. Da febbraio ad oggi sono più di una decina gli inquilini sfrattati dalle case parcheggio per la scadenza del contratto. Si tratta di soggetti che, pur avendo perso i requisiti nel corso del tempo, avrebbero occupato senza alcun titolo gli alloggi comunali, diversa dalla posizione di altri sette che erano entrati addirittura con la forza, un filone questo trattato a parte. All'inizio dell'anno l'ente, avviando l'operazione legalità, aveva approvato anche il nuovo regolamento, fissando la durata massima di permanenza che scende da 4 a 3 anni. Si può soffrire di una casa parcheggio per un periodo di un anno e mezzo con possibilità di proroga dello stesso arco temporale, considerando che l'assegnazione avviene per condizioni emergenziali e temporanee. Sono stati rivisti punteggi da attribuire agli utenti che ne fanno richiesta, come pur è stata introdotta come pena di esclusione o perdita dei diritti, la mancata partecipazione dei beneficiari ai bandi per le case popolari. E ora gli acari dietro le sbarre, con la scabbia in carcere che contagia anche i primi due agenti della penitenziaria. Nessun allarme, ma i sindacati rincarano. Siamo stati inascoltati, dicono, e chiedono una sorveglianza sanitaria. Facciamo il punto nel nostro servizio. Due casi di scabbia anche tra gli agenti penitenziari di stanza nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, più sei casi già diagnosticati sui detenuti. Gli acari dietro le sbarre sono stati sottovalutati secondo le organizzazioni sindacali che fanno esplodere la protesta e chiedono la sorveglianza sanitaria. Non una situazione di allerta né di allarme, perché il trattamento è pressoché collaudato, ma le misure vanno prese. Se confermate, anche i dubbi sono stati ormai azzerati dalla diagnosi rilasciata. Ci si ritroverebbe di fronte a un caso grave, di dubbi a gestione amministrativa. Per quello che starebbe accadendo in questi giorni presso la casa di reclusione, potremo tranquillamente affermare che tanto tono che piove, dichiarano Tiziana Sciarra, Gaetano Consolati, Giuseppe Mazzagatta e Davide Taboliti, riprendendo quanto scritto nella nota inviata alla direzione carceraria, per conoscenza anche a proprietori regionali e alle segreterie regionali. In considerazione di quanto accaduto, nel contestare i metodi sinora adottati dagli attori scesi in campo per dare una risposta risolutiva alla questione, fermo restando la necessità di effettuare adeguata profilassi generale, chiediamo che tutti coloro i quali faranno richiesta della visita medica, vengano messi nelle condizioni di effettuare la spesa dell'amministrazione, aggiungono i sindacati nella nota. La pagina dell'occupazione, ancora una volta con la granguizza e timori per il possibile taglio di investimenti. Il nostro servizio. Si teme per lo stabilimento granguizza di popoli, per il mancato rinnovo del bando di concessione all'acqua primavera. In queste ore le organizzazioni sindacali stanno trattando con le istituzioni, gli addetti ai lavori, per scongiurare il possibile taglio di investimenti che, a detta dei sindacati, potrebbe incidere sui livelli occupazionali dello stabilimento di popoli, persone, famiglie, e risorse importanti per l'attività per l'indotto del territorio. Purtroppo la questione relativa ai bandi per le concessioni, in arte e in realtà abruzzesi, ha prodotto il fermo lavorativo. Probabilmente non è questo il nostro caso, ce lo auguriamo almeno, ma rimane però la necessità di superare questo impasse burocratico per le concessioni primavera. Oggi siamo con l'azienda in una possibilità di avviare l'integrativo di secondo livello che verrebbe anche ridotta la sua efficacia nel momento in cui l'azienda avrebbe delle possibilità inferiori in caso di investimento per il futuro. E ora l'effetto dello sciopero per l'istituto tecnico-industriale di Prato Lapelini è arrivata la determina per riaprire i laboratori. Sentiamo nel nostro servizio. L'effetto dello sciopero senza clamore diventa palpabile su sito istituzionale della provincia dell'Aquila con determina dirigenziale del settore edilizia scolastica firmata dalla dirigente Alessia Fagnani è stata infatti rilasciata la certificazione di fine lavori e regolare esecuzione degli interventi svolte nei laboratori dell'Itili Prato Lapelini un passaggio burocratico ma necessario per consentire alla popolazione scolastica di usufruire degli spazi ristrutturati e rimessi a nuovo. L'ufficio della provincia lo ha preso in carico le ultime documentazioni in data 5 ottobre per procedere nel giro di 24 ore alla determina di presa d'atto la certificazione permetterà quindi si spera nel più breve tempo possibile ai studenti e docenti di svolgere la didattica a pieno regime nei laboratori oggetto di un intervento in adeguamento che ha rimosso nel corso dell'estate tutte le condizioni di criticità la scorsa settimana gli studenti di meccanica avevano scioperato fuori i cancelli dell'istituto non per creare allarme o clamore ma come detto per lanciare un segnale alle istituzioni e agli addetti lavori a fine di sbloccare la coda burocratica. E proprio dopo la determina formalizzata degli uffici della provincia questo pomeriggio la preside del polo scientifico tecnologico Luigina D'Amico ha diramato una circolare per riaprire i laboratori e consentire alla popolazione scolastica di usufruire degli stessi ai fini della didattica ci fermiamo con la prima parte e a tra poco con le nostre notizie Andale Sweet Spy Beauty nasce da un'idea di Alessia e Daniele Apalanza da anni nel settore del benessere ed estetico le nostre suite con vasca idromassaggio sauna e bagno turco comprendono colazione e cena servite nella cassetta dell'amore direttamente in suite per trascorrere un momento speciale con il vostro partner per festeggiare le vostre date importanti vi accoglieremo con dediche allestimenti e la vostra canzone preferita da ottobre ci sarà la nuova zona beauty con tanti servizi estetici massoterapici estetica oncologica make up e make up permanente la tanta formazione e la cura nei dettagli rendono impeccabile il nostro servizio è questo il nostro impegno quotidiano Ad Maiora Semper Alessia e Daniela Andale Sweet Spa e Beauty Via Chieti 16 Rosciano Telefono 334 90 35 894 Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio di fatti la struttura oltre ad essere completamente in legno ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a Copp Ansap e Terra Antica in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia locali che sono in grado di raccontare il nostro territorio Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche agricole della nostra valle come i legumi cereali di farine per passare poi alle paste le trafilate in bronzo le produzioni artigianali ecco questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto Parco del Gusto all'interno del centro agroalimentare Ansap e Terra Antica di Raiano propone quotidianamente tutte le nostre produzioni dall'olio extravergine d'oliva della varietà rustica e gentile fino alle produzioni lattiero caseari per chi volesse venirci a trovare Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare Ansap e Terra Antica Statale 5 Raiano Parco del Gusto dove il prodotto che c'è più a cuore è il nostro territorio Casa funeraria Santilli un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita Casa funeraria Santilli via Edward Lear a Sulmuna Grazie a tutti Emporio Tessile Lauri Arredamento e tendaggi il tuo punto di riferimento a Sulmuna per tende da interno tende da sole zanzariere tende tecniche gazebo tappezzeria e pergotelle scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980 vieni a trovarci siamo a Sulmuna in via Cornacchiola 48 Emporio Tessile Lauri professionalità dal 1980 seconda parte ripartiamo dalla situazione politica la crisi l'ultimo atto a Palazzo con queste consultazioni senza fine facciamo il punto nel nostro servizio ultimo atto a Palazzo San Francesco per trovare una via d'uscita la crisi politica che tiene con il fiato sospeso addetti ai lavori e non solo oggi l'incontro tra il sindaco Gianfranco Di Piero e il capogruppo Mdem Mimmo Di Benedetto forse è decisivo si apre la terza settimana di crisi a Palazzo con le consultazioni che vanno avanti ad oltranza tra le più lunghe della storia politica cittadina il noto da sciogliere sarebbe ancora la vice sindacatura alla luce dell'azzeramento della giunta sempre più probabile nei prossimi giorni le indiscrezioni hanno lasciato intendere che si procederà a rinnovare almeno i due quinti dell'esecutivo ovvero gli assessori non eletti tra questi proprio il PD potrebbe essere chiamato a rinunciare o a sostituire il suo assessore il braccio di ferro va avanti sul nome e su qualche questione spinosa proprio oggi riparte la rifezione scolastica in città tuttavia per una classe dirigente strutturata non dovrebbe essere un problema a mettere sul tavolo delle alternative delle figure politiche nuove a questo punto il sindaco di Piero anziché procedere con le consultazioni sulle consultazioni non resta che assumere le decisioni per avvalersi della facoltà di revocare e sostituire gli assessori specialmente se è vero che può contare sul consigliere Petrella su qualche fuoriuscito purché si talli con recente passato d'altronde i problemi della quotidianità non si fermano da quelli più grandi come lavoro sanità opere pubbliche ai più gestibili come i volontari dell'unità alzi sfrattati dalla sede ma nessuno si è preso la briga di individuare un locale alternativo in città intanto il PD nel pomeriggio ha ribadito di essere disposto a un cambiamento ma senza veti senza la logica dei veti pronti a chiudere la crisi ma senza condizionamenti di nessuno l'ex consigliere comunale Elisabetta Bianchi nel frattempo ora portavoce di direzione Sulmona è pronta a raccogliere 300 firme per chiedere la convocazione di un consiglio comunale in questo momento si sta riunendo la minoranza per procedere parimenti in tal senso quindi lo scenario è in continua evoluzione ci spostiamo rapprezza che non molla si tenta il sorpasso lo spopolamento chiude la primaria ma sulle ceneri della scuola nascerà un asilo intercomunale il nostro servizio la scuola primaria scompare per insufficienza di iscrizioni dovute al generale calo demografico al dilagante isolamento ma il comune non chiude le porte dell'edificio scolastico accade a Prezza il piccolo centro Peligno dove si tenta il sorpasso allo spopolamento in quelle mura che stanno di storia per il valore che la scuola ha assunto nei decenni per i paesi e le giovani generazioni nascerà un nuovo assilo nido intercomunale ad annunciarlo nella sua vita la sindaco rubrica inaugurata da poco sui social e Marianna stamattina sono andata a salutare la maestra Anna Rita della scuola dell'infanzia di Prezza e insieme a lei stiamo già iniziando a vedere le nuove iscrizioni di più ai mille per mille tre e tre e quattro già pronti e ci diamo un grande scuola va bene oggi inizia la menta eh sì sì oggi partiamo con la menta Marianna proprio sì me ne vado usano per ok bravo poi dobbiamo ripetare tutto allora qui abbiamo deciso di farcela un secondo questa era la vecchia scuola non è come era bella è bella tuttora ma dobbiamo soltanto ripetare tutta quanta abbiamo già organizzato tutto speriamo che la prossima settimana inizia combattiamo tutti i giorni con lo spopolamento diminuiamo di conseguenza pochi bambini però non ci arrendiamo perché dire appunto di organizzare di creare il nuovo vestito di questo può essere il modo per rivitalizzarci un po' la struttura è grande sono tante le stanze quindi speriamo bene così interviene la scoccia che ha effettuato un sopralluogo sull'immobile sostanzialmente il comune al termine delle operazioni di polizia tinteggiatura procederà alla pubblicazione di un avviso per la gestione inoltre le iscrizioni all'asilo saranno aperte anche per i più piccoli provenienti dai paesi del circondario sulle scenerie della primaria potrebbe quindi nascere il nido della vallata per febbre alta è stato ricoverato per encefalite Monsignor Angelo Spina Giavescovo della Diocesi di Summona Valva affiato sospeso anche dalla sua tra virgolette chiesa diocesana in nostro servizio l'Arcivescovo di Ancona Ossimo Angelo Spina Giavescovo di Summona Valva è stato ricoverato in ospedale per un'encefalite virale Spina avrebbe accusato febbre alta nei giorni scorsi e venerdì i medici di Torrette hanno scoperto la causa del malore condizioni stabili è stato lui stesso a inviare un messaggio vocale ai sacerdoti dell'Arci Diocesi che nelle omelie di oggi lo hanno messo al centro delle preghiere offro questa sofferenza per il bene della Diocesi e della Chiesa tutta i momenti difficili ci aiutano a stare vicino a Signora le persone a cui si vuole bene e come dico sempre quando si è la Diocesi nel cuore anche questi momenti sono di grazia detto Spina spiegando egli stesso che sarà costretto a qualche giorno di ricovero la notizia è arrivata fino a Sulmona Diocesi che il prelato guidò fino al 2017 quando fu nominato arcivescovo di Ancona Osimo assumendone la titolarità della cattedra episcopale il vescove merito risumona valva e quindi Monsignor Di Falco ma dalla curia sulmonese assicurano fermi dei preghiere per Monsignor Spina già l'escovo della Diocesi ora la cronaca ci riporta Sulmona si taglia l'indice mentre pota le piante in giardino un settantenne trasferito ad Ancona sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio si taglia l'indice della mano destra mentre pota le piante in campagna la disavventura è capitata un settantenne domiciliato nel circondario Peligno che alle prime luci dell'alba tra sabato e domenica scorsi si è presentato nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per il trattamento della profonda ferita sembrerebbe che l'incidente domestico sia stato provocato da una forbice da potatura utilizzata dall'uomo durante lo svolgimento delle operazioni la corsa in ospedale ha consentito di gestire il caso e di trasferire l'uomo presso un centro specializzato di Angona per la microchirurgia alla mano dove sarà sottoposto a un intervento un incidente che fortunatamente si può raccontare e intanto arriva lo sfratto anche per l'Unità Alzi volontari senza casa il comune si riprende la sede anche l'Unità Alzi l'unione nazionale italiana per il trasporto degli ammalati si appresta a lasciare la città di Sulmona lo sfratto è arrivato dagli uffici comunali di Palazzo San Francesco con una transizione che ha consentito l'associazione di usufruire ufficialmente dei locali fino allo scorso giugno l'Unità Alzi aveva inizialmente avuto l'uso esclusivo della struttura in via marcante ma poi per la problematica afferente alle scuole collocate nelle vicinanze rimaste senza palestra il comune aveva provveduto a recedere contratto con l'associazione di volontariato non senza una transazione che è scaduta nei mesi scorsi da Palazzo San Francesco si sono quindi attivati per tornare in possesso della struttura mentre i volontari sono rimasti senza una casa dalle indiscrezioni sembrerebbe che la nuova sede sia stata individuata sul territorio comunale di Prato La Peligna ma su questo punto i familiari degli utenti protestano tutte persone fragili con difficoltà a deambulare secondo questi ultimi il comune potrebbe individuare una sede anche in città specialmente nel centro storico al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia assistono alla rapina la sventano consentendo l'arresto del responsabile l'atto eroico compiuto l'altra sera a Udine da due alpini dell'ottavo reggimento uno di questi originario di Sulmona Andrea virtuoso l'episodio è accaduto in via Roma intorno alle 18.30 quando un uomo di 28 anni originario di Nola in provincia di Napoli avrebbe puntato un oggetto contro il fianco sinistro di una donna minacciando di accoltellarla se avesse urlato poi l'avrebbe strattonata cercando di sfilarle di mano il cellulare e la borsa a quel punto le due penne nere in borghese che si stavano recando proprio in quel momento dal barbiere sono immediatamente intervenute lo hanno bloccato hanno chiamato la polizia che ha arrestato l'uomo in fragranza di reato con l'accusa di tentata rapina aggravata il 28enne stato quindi a ristrette domiciliari misura cautelare applicata dal GIP territorialmente competente dopo la convalida dell'arresto fortuna che la vittima ha incrociato i suoi due angeli custodi i due alpini in borghese di cui un sulmonese www.ondaribu.luv è il nostro sito internet che vi invito a visitare per essere aggiornati su tutte le notizie in tempo reale anche la nostra pagina facebook i canali social bene io mi fermo qui grazie per averci seguito a tutti una buona serata grazie a tutti